L'Avezzano, a caccia del successo interno che manca dallo scorso 6 ottobre, ospita un Real Giulianova rinfrancato dalla vittoria sul vasto Girardi di domenica scorsa. Squadre divise da quattro punti in classifica, entrambi alla ricerca della definitiva sterzata ad un avvio di stagione zoppicante. In casa Avezzano pesa l'assenza di Gaeta, che parte solo dalla panchina, con Liguori a disegnare il consueto 4-2-3-1, con le novità De Costanzo e Siragusa, assieme a Puglielli alle spalle di Quatrana. In mediana si rivede De Angelis per l'acciaccato Kras. Nella Giulianova out per squalifica di Amutene, nel grosso schiera un 4-1-4-1 con Suriano e Barlafante ad ispirare Bomber Fioretti. In avvio si fanno preferire i biancoverdi, che provano a sbloccarsi con Quatrana, che alza troppo la mira e spedisce in curva. I giuliesi provano a sorprendere la difesa di casa, cercando la profondità di Fioretti. Al decimo la punta giallorossa è ben imbeccata, ma il suo pallonetto termina in out. Si gioca su un terreno pesantissimo, che non favorisce giocate di qualità, ne viene fuori una partita intensa, ma povera di spunti, degni di nota. Gli unici pericoli arrivano da calcio piazzato. Al 24esimo ci prova ancora Fioretti, punizione che sfiora la trasversale. Il Giulianova alza i decibel e al 33esimo la sblocca. Della battuta di Dolce, Nazari approfitta dell'uscita killer di Fanti ed insacca per l'1-0, primo centro in campionato per il difensore. E giallorossi avanti. Vantaggio ospite che dura appena 5 minuti, fino a quando Quatrana non estrai dal cilindro il colpo della domenica e beffa un incerto di Piero sul secondo palo. Per l'1-1 biancoverde, esultanza liberatoria dell'attaccante marzicano, che si toglie la maglia. E Giammonito rimedia il secondo giallo della sua partita, lasciando l'Avezzano in dieci. Con la superiorità numerica, il Giulianova prova a pungere al 43esimo, ancora con Fioretti, che ben imbeccato, manda alle stelle da posizione interessante. Sui titoli di coda della prima frazione, l'Avezzano rischia il sorpasso, ma traditi, non ha il tempo di impattare di testa e spedisce addosso a Di Piero. Nell'intervallo, Liguori lascia negli spogliatoi Puglielli e De Costanzo e gioca le carte Cancelli e Gaeta. I suoi tengono bene il campo, rischiando soltanto all'undicesimo con un ispirato Fioretti, che gira alto un traversone di D'Antonio. Al dodicesimo si accende Gaeta, che prova a far venire Giulio De Marzi, solo applausi per il tentativo dell'attaccante. I giuliesi non concretizzano la pressione e provano a farsi vedere, ancora da piazzato, ma la parabola di Cipriani al quarto d'ora è di fatto un passaggio a Fanti. Del grosso pesca dalla panchina a Gueye per Moi, ma non cambia il cliché della gara. Al trentasettesimo, anzi, sono i biancoverdi a graffiare in contropiede, con Gaeta, che ben servito da Cancelli in campo aperto, spara a salve e cestina l'occasione. Si arriva fino al primo dei cinque minuti di recupero, quando si crea una mischia davanti la porta di Fanti, ma sbroglia. La difesa biancoverde, che salva il pareggio, finisce con un punto a testa, che certifica le difficoltà di entrambe le squadre. Avezzano che si tuffa nel mercato di riparazione, con vista alla fondamentale trasferta di Cattolica di domenica prossima. Giulianova che si rialza dopo tre K.O. esterni consecutivi e porta a casa un punto tutto sommato giusto. Allora, Presidente Paris, un pareggio che è arrivato dopo quella ingenua espulsione nel primo tempo che poteva cambiare la partita? Beh, sì, la foga cancella la razionalità e questo è successo a Quatrana. Mi dispiace perché sarebbe stata un'altra partita, 11 contro 11, ma è andata così, contento per il punto. Senta, ha trovato delle risposte positive, almeno dall'atteggiamento della squadra? In difesa e a centrocampo, però è una squadra da potenziare, è inutile che oggi dico qualcosa che ho già in mente da tre settimane. Senta, abbiamo letto anche della vicenda di Gaeta, cosa può dirci al riguardo? Nel calcio si litiga, c'è stato un litigio appunto in settimana durante un allenamento, però la questione è rientrata e poi adesso guardiamo al mercato, vediamo se siamo bravi a sistemare le cose nei reparti e soprattutto quello che chiedo a chi viene ad Avezzano non è lo slogan, bisogna vincere e voglio gli uomini. Ecco, sul mercato cosa può dirci, quale indicazioni può fornirci in vista proprio della riapertura? Sappiamo di Curzio, di alcuni ritorni come Bittaglie, come Leto, cosa altro può dirci? Ma noi stiamo cercando di gestire il mercato nei reparti essenziali, centrocampo, esterni e attacco. E quindi in questi reparti da domani vi comunicheremo, massimo dopo domani, i primi nomi di una campagna acquisti importante che viene fatta anche in un'ottica di futuro. I giocatori che verranno ad Avezzano non saranno giocatori per quattro mesi, ma saranno giocatori per costruire qualcosa di importante. Allora, mister, dunque eravate andate in vantaggio, poi è arrivato il pareggio. L'espulsione dell'Avezzano nel secondo tempo non siete riusciti forse a concretizzare la superiorità numerica? Sì, purtroppo il secondo tempo abbiamo gestito, secondo me, poco bene la palla. Nel senso che ho chiesto ai ragazzi di fare più possesso per trovare gli spazi tra le linee. Invece abbiamo preferito fare questi cambi di gioco che poi i giocatori della Avezzano leggevano molto bene perché chiaramente si difendevano tutti dietro la linea della palla lasciando Gaeta davanti. Quindi potevamo gestire meglio questa situazione di gioco. Abbiamo cercato di premere l'acceleratore, ho giocato alla fine con cinque attaccanti. È una partita che potevamo risolvere su qualche episodio, con qualche calcio d'angolo che ne abbiamo battuti numerosi o qualche punizione. Stando comunque sempre attenti le ripartenze della Avezzano con Gaeta e i due esterni che potevano essere pericolosi perché quando siamo stati bravi a non avere la foga comunque di cercare di vincere la partita a tutti i costi perché comunque quando in questo campo è un derby sono tutte le situazioni che poi possono andare contro. Quindi da una parte siamo stati bravi a tenere la partita, dall'altra abbiamo gestito, secondo me, potevamo gestire meglio il possesso palla. Senta, dopo quello che è successo la reazione di Gaeta è stata positiva comunque? Con Gaeta non è successo assolutamente nulla, con Gaeta c'è stato quello che ci sta sempre è assolutamente tra un calciatore, un allenatore, una cosa. Marco ha avuto un problema fisico durante la settimana, lunedì martedì si è allenato col gruppo dopodiché ha avuto un problema, è stato dal fisioterapista, ha recuperato, venerdì ha fatto allenamento sabato mattina ha fatto 45 minuti con la riunione e si è già stato convocato. Con la stessa cosa, se voi guardate, anche Krast è stato in panchina perché anche lui ha fatto una settimana difficile particolare dove aveva un problema e era a disposizione.